Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di un filato che porterà sicuramente tanto colore durante i lunghi inverni. Un filato ricco di tante proprietà, di una qualità esclusiva. E ricco di così tante proprietà che lo porta dritto in cima alla lista dei filati più belli di Tessiland. Vediamo insieme il Just In Baby Print. Analizziamolo nel dettaglio e poi torniamo per parlarne insieme. Eccolo qui il nostro Just In Baby Print. Un filato davvero ricco di tante qualità, alcune delle quali possiamo ritrovare anche qui sull'etichetta. Allora andiamo per gradi. Prima di tutto la composizione, 100% lana Merinos. Cosa significa quindi? Oltre alla qualità che ovviamente va da sé, che regola l'umidità, che è traspirante, termoregolante, morbida, sostenibile, offre protezione UV e bene sì, e resiste anche più a lungo. Poi cos'altro? Iniziamo a dire che è un filato che si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 145 metri. e per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 3,3 e mezzo oppure dell'uncinetto numero 3. Ma andiamo avanti con ciò che possiamo vedere benissimo anche su qui, sull'etichetta. Allora, innanzitutto il peso garantito. Cosa significa? Che la lana è una fibra viva e come tale ha delle oscillazioni di umidità che ne influiscono sul peso. Beh, per quanto riguarda il Just In Baby Print, Tessiland ha scelto di gomitolare una percentuale di prodotto in più rispetto alla norma. E ciò ovviamente consentirà di non scendere mai sotto alle soglie di tolleranza. Poi, altra qualità fondamentale è questa, Musing Free, che significa che come tutti i prodotti Tessiland vi è un'attenta cura nella tosatura degli animali che forniscono il prezioso prodotto e che poi ovviamente dovrà durare nel tempo grazie alle vostre creazioni. Veniamo adesso a quelli che sono i consigli per il lavaggio e il post lavaggio. È possibile lavarlo ad una temperatura non superiore ai 30 gradi, è possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 ed è necessario, o meglio un consiglio senz'altro utile, riporlo ad asciugare in una posizione piana. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta il tetracloretilene. Adesso vediamo nel dettaglio quelle che sono le varianti di colore. Questa è la variante jeans, quindi dove ovviamente, dice anche il nome stesso che porta, prediligono le varie colorazioni del blu, che potete vedere sviluppate benissimo anche su questo telino. Questa, come potete notare, è ovviamente la variante party, quindi una vera e propria esplosione di colori. Eccola qui, la potete vedere, fucsia, rosa, giallo, verde, blu e chi più ne ha più ne metta. Tutte riscontrate nel Just In Baby Party. E proseguiamo invece verso toni più leggeri, con il Just In Baby Print delicato. Qui, come potete vedere, ci sono i toni del rosa davvero molto chiari, ma anche del beige. E poi, ecco, intervallati da queste linee un po' più scure di un bel marrone molto acceso. Questa, invece, è la variante tramonto, con i colori che il nome stesso porta a pensare. E quindi ci sono i colori del bordeaux, del viola, ma anche del turchese e dell'arancione, tutti riportati esattamente qui. Ecco qui invece la variante acqua, e quindi ovviamente Savasandir, il blu, il turchese, il verde smeraldo, tutti riscontrati qui nel nostro Just In Baby Print acqua. E infine concludiamo con il sereno, dove invece riscontriamo i colori del viola, ma anche dell'arancione, un bel giallo decisamente vivo, un glicine, un leggero verde, insomma anche qui una bellissima esplosione di colori. Le avete viste, le qualità di questo Just In Baby Print sono davvero tantissime, e non è finita qui. Infatti a queste dobbiamo aggiungere anche il trattamento Super Wash, che consente di far sì che le creazioni che realizzerete potrete tranquillamente lavarle in lavatrice, con il programma ovviamente dedicato. Ovviamente per i primi consigliamo sempre il lavaggio a mano ad una temperatura dell'acqua tiepida. Altra qualità fondamentale è la torsione corallina, quella tipica torsione del cotone, che quindi vi farà sì che questo Just In Baby Print possa essere utilizzato con l'uncinetto, con i ferri da maglia, davvero in una maniera scorrevole, ma molto resistente. Altra qualità, ultima ma non meno importante, è il 100% Made in Italy. Cosa significa? Che questo Just In Baby Print è realizzato in tutte le sue fasi unicamente qui in Italia. Ma veniamo adesso alle idee. Ce ne sono davvero tantissime. Con queste sfumature di colore potrete realizzare ad esempio anche delle copertine per i più piccini, che possano magari abbinarsi bene alla cameretta, oppure al passeggino, piuttosto che alla carrozzina. O ancora, per gli adulti c'è soprattutto la tonalità jeans, con il quale potreste realizzare magari un maglioncino da indossare sopra una camicia per un uomo, perché no? Oppure per noi donne, diamo spazio ai colori, che sia un bel maglioncino, magari con lo scollo a incrocio, legato con un laccetto, oppure un maglioncino a collo alto, un cardigan o perché no una bella stola da abbinare su un vestito semplice o su un semplice maglioncino in tinta unita. Insomma, le idee sono davvero tantissime, quindi riempite la vostra vita di colori. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Al prossimo articolo, ciao! Autore dei sottotitoli a cura di QTSS